E' la vostra ultima occasione. Che cosa intendi esattamente con ultima occasione? La persona che controlla vostro figlio è quella che controlla il futuro. William non è su quell'aereo. Hai un buon motivo per non fidarti. Notizie del ragazzo? Nessuna. Niente da segnalare. Non so come faccio a saperlo, ma di certo non è su quell'aereo. E se invece fosse lì? E se fosse la nostra ultima occasione davvero? Cerca di tornare sano e salvo. Sì. Andiamo, andiamo. Maledizione. Maledizione. Non so come se fosse la terra. E quindi? Anche l'assad relentless. Qui c'è l'interno? Nervate qui, lui ecco? Sì! Fermo! Voltati! Mani dietro la testa! E io che pensavo fosse un bugiardo. Un programma spaziale segreto. Dovrebbe stare più attento a proteggersi le spalle. Come diavolo ha fatto entrare? Non potrete nasconderlo a lungo. Non sono armato. Può abbassare la pistola. Sono qui solo per mio figlio. Non l'abbiamo catturato. Le assicuro che è la verità, signor Mulder. Perché tutti vogliono mio figlio? Quindi non l'ha ancora capito, vero? Vede suo figlio a quello che tutti vogliono. Quello per cui ucciderebbero. Ci darebbero. No! 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 No!